17 anni fa, luglio 2006, ho avuto un incidente, dopo un incidente mi sono toffato in piscina e mi sono fratturato due vertebre a cervicale con la lesione al midollo spinale, completamente paralizzato dal petto in giù, non riuscivo nemmeno a mangiare io, nel senso che non riuscivo a tenere una forchetta, completamente comunque mi imboccavano gli infermieri, mia mamma e i miei genitori, mio papà, perciò c'è voluto tempo, pazienza, sacrificio, non bisogna mai abbattersi, il momento down c'è, però bisogna sempre poi riprendersi e dire ce la devo fare. Al tennis mi sono avvicinato grazie alla fisioterapia, quando ero ricoverato al CRF, dove facevamo sport a terapia, dove ci avvicinavano allo sport disabili sia per il tennis che per il basket, il tennis è quello che mi è piaciuto di più e ho continuato questo sport. Non è più tutto come prima, specialmente magari all'inizio ti crolla il mondo, poi piano piano capisci che si può vivere bene anche con una disabilità. A me piace tanto la competizione, mi piace competere, vincere, comunque è bello vincere, ho comunque sempre fatto sport sin da quando prima dell'incidente, prima facevo pugilato, palestra, non ho mai fatto il tennis, il tennis mi sono avvicinato dopo l'incidente. Mi entusiasma fare bene, essere concentrato, perché comunque è uno sport di concentrazione più che altro di fatica. Quando ho iniziato poi a fare sport con l'ospedale mi sono avvicinato a questo sport e c'erano questi tornei, ho provato un paio, non ho fatto tanti tornei e adesso vorrei farne un po' di più, essere un po' assiduo per essere più competitivo. A meno di provare, provate e poi decidete, perché comunque lo sport fa bene, sia mentalmente sia fisicamente, provate, non solo provare e poi decidete cosa fare. Se non provate non sapete cosa vi perdete. Io quando scendo in campo, anche se so che il mio avversario è più forte di me, ce la devo fare, devo vincere, devo provarci almeno. Se poi va male, se no almeno ci ho provato.